Nome di peso nel mondo imprenditoriale veronese e marchio storico che ha riuscito a portare il Made in Italy nel mondo. L'azienda Carrera nasce a metà degli anni 60 come piccola impresa manifatturiera, per divenire poi, grazie alla capacità imprenditoriale della famiglia Tacchella, leader indiscusso nel campo dell'abbigliamento in Italia e all'estero, controllando l'intera filiera produttiva dalla coltivazione del cotone alla commercializzazione del prodotto. Carrera nasce nel 1965, quindi ormai 52 anni fa, a Lugo di Grezzana, in Val Pantena. Come tutte le aziende del dopoguerra, Carrera nasce da una richiesta del sacerdote di Lugo, che aveva bisogno di un sarto, ha chiesto mio zio di fare il sarto, mio zio si è messo a fare il sarto e poi da lì nasce questa avventura. Dalle origini ad oggi, Carrera si evolve notevolmente, sia nello sviluppo del prodotto, sia nella politica aziendale. Carrera negli anni è cambiata molto, da piccola azienda manifatturiera, negli anni 70-80 è diventata un'azienda produttrice di jeans, soprattutto in Italia, oggi invece ha aziende in centro Asia, perché non si può più produrre in Italia, ed è cambiata anche la struttura del prodotto. Negli anni 70 il prodotto era molto omogeneo, oggi il prodotto è molto differenziato. Tradurre Carrera in numeri aiuta a capire le dimensioni e il ruolo che l'azienda riveste oggi sul mercato, anche dal punto di vista occupazionale. Noi siamo un'azienda che occupa in Italia più di 200 persone, abbiamo più di 1000 clienti sul territorio nazionale, che rappresenta il nostro mercato principale, esportiamo in una trentina di paesi in giro per il mondo, produciamo circa 5 milioni di pezzi all'anno. La necessità di distinguersi in un mercato sempre più veloce e competitivo, unita alla passione, alla capacità creativa tutta italiana e alla voglia di sperimentare, hanno portato Carrera a realizzare materiali e prodotti sempre nuovi e innovativi, come il Carrera Play, il jeans all'aloe e il jeans passport. L'azienda in realtà è una promessa verso il consumatore, la nostra promessa è quella di fare un prodotto di alta qualità a prezzo molto competitivo e sostenibile per la società. Per fare questo occorre sempre tanta innovazione, noi grazie alle fabbriche di proprietà possiamo realizzare dei prodotti innovativi, gli ultimi due per citare sono un jeans da donna con trattamento all'aloe e il nuovo jeans passport che serve per viaggiare comodi e sicuri. Non pochi fattori che gratificano e motivano ogni giorno, il giovane amministratore Gianluca Tacchella. La soddisfazione di vedere il proprio prodotto indossato dalle persone è la cosa che ci motiva di più e fatto anche in una maniera sostenibile. La passione è il motore di ogni giorno e la soddisfazione di vedere tanti collaboratori che sono contenti di lavorare con te.